Si va in acqua, dopo circa due mesi e mezzo si ritorna in acqua per la prima volta, andiamo a prendere un po' di sensazioni Siamo in acqua, dopo circa due mesi e mezzo si ritorna in acqua per la prima volta, e abbiamo un po' di sensazioni 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 Grazie a tutti!